Salve a tutti, in questo video vorrei affrontare una serie di questioni molto importanti. La prima questione riguarda gli scontri a Pisa tra gli studenti e la polizia. La seconda questione è collegata alla prima. Vorrei provare a rispondere alla domanda se il governo Meloni sia uno Stato autoritario. O meglio, vorrei provare a utilizzare la sociologia per rispondere a questa domanda. Cercheremo di capire se la sociologia offre gli strumenti per rispondere alla domanda. Il governo Meloni è un governo autoritario in Italia? Siamo in presenza della costruzione di uno Stato autoritario? E la terza questione che voglio affrontare riguarda la guerra in Ucraina. In particolare vorrei analizzare e ragionare sulle parole di Macron, il quale ha recentemente proposto di inviare soldati NATO a combattere contro i russi in Ucraina. Vi parlerò della strategia incrementale che la Russia sta utilizzando in Ucraina e, come sempre, leggerò un articolo che ho pubblicato per il sito di cui sono, direttore, sicurezza internazionale.com. Colgo l'occasione per una comunicazione di servizio. La diretta del mese con gli abbonati di sicurezza internazionale.com si terrà questa sera, 29 febbraio, dalle 19 alle 20. Ringrazio gli abbonati di sicurezza internazionale.com che, tra l'altro, è il primo sito in Italia per numero di articoli pubblicati sulla politica internazionale. Ne pubblichiamo oltre 400 al mese e questi video, di fatto, sono resi possibili dagli abbonati a sicurezza internazionale.com perché sempre di più si risolvono nella lettura di un articolo che ho pubblicato per sicurezza internazionale.com. Iniziamo dagli scontri tra gli studenti e la polizia a Pisa, credo il 23 febbraio scorso, se ricordo esattamente la data. Non entrerò in dettagli perché i video sono nella disponibilità di tutti, almeno credo. Le informazioni stanno circolando, quindi chiunque potrà farsi un'idea. Che cosa è accaduto? Al termine di questi scontri, quindi mi riferisco soprattutto ai fatti politici, che cosa è accaduto? Politicamente è accaduto un fatto molto molto importante, cioè che il Presidente della Repubblica, Mattarella, abbia di fatto espresso la propria solidarietà agli studenti che sono stati colpiti, manganellati, fate voi, dalla polizia e ha di fatto redarguito la polizia. Perché ora non ricordo a memoria la frase, come sapete questi video sono improvvisati, parlo a braccio, quindi poi magari cercate le informazioni direttamente nella rete, ma credo che le parole di Mattarella siano state qualcosa del tipo l'uso dei manganelli contro gli studenti, l'uso dei manganelli contro i giovani è sempre una sconfitta, chiaramente intendeva dire una sconfitta da parte dello Stato, una sconfitta pedagogica, una sconfitta educativa. Credo che sia questo il senso delle parole del Presidente della Repubblica. C'è stata poi una polemica perché Salvini si è schierato con le forze dell'ordine, anche Tajani di fatto ha assunto una posizione un po' più equilibrata, diciamo così, ma di fatto anche Tajani si è schierato con le forze dell'ordine sostanzialmente, anche se ha detto che bisognerà fare delle verifiche, bisognerà fare degli accertamenti, ma diciamo che Tajani ha passato più tempo a lodare le forze dell'ordine in generale che a condannare i scontri di Pisa. Questo è il contesto, se così posso definirlo, ci sarebbe tantissimo altro da aggiungere, ma ripeto, per far prima, do per scontato che tutti quanti grossomodo siano informati di quello che sta accadendo, delle polemiche, delle dichiarazioni di Salvini, di Tajani, di Mattarella e così via. La domanda a questo punto è, il governo Meloni sta costruendo uno Stato autoritario? Gli scontri di Pisa, le cariche della polizia nei confronti degli studenti di Pisa possono essere interpretate all'interno di un fenomeno più ampio che è la trasformazione dello Stato italiano in uno Stato autoritario sotto l'impulso del governo Meloni? Ora, è chiaro che questi video sono una chiacchierata tra amici, quindi tutti sono liberi di maturare le proprie convinzioni, esistono punti di vista diversi, molto spesso, questo insegna la sociologia, il nostro punto di vista dipende anche dalla posizione che occupiamo nella società, la classe sociale, le esperienze personali e così via, quindi ognuno poi rimarrà con le proprie idee. Semplicemente mi limito a dire questo, che affinché si verifichi la trasformazione di uno Stato democratico in uno Stato autoritario, sono necessarie alcune condizioni di base. Una di queste condizioni, sono numerose, ma una delle più importanti, una condizione necessaria, è la saldatura tra i vertici dello Stato, tra i poteri dello Stato. Ora, per farmi capire da tutti farò l'esempio più semplice, che è quello del fascismo. Il fascismo, diciamo, Mussolini ha potuto trasformare lo Stato liberale in uno Stato autoritario, nello Stato fascista, perché a un certo punto si è verificata una saldatura tra i poteri dello Stato, fondamentalmente tra il re Vittorio Emanuele III e lo stesso Mussolini e vari altri paesi. Quindi, scusate, vari altri poteri. Tutti questi poteri, i poteri più importanti dello Stato, si sono saldati e allineati. Ora, la trasformazione di uno Stato liberale in una dittatura o comunque in uno Stato autoritario, richiede questa operazione, questa saldatura tra i poteri dello Stato. Perché? Perché uno Stato autoritario è veramente tale se riesce a eliminare i contropoteri. Uno Stato autoritario non può diventare tale se il Presidente della Repubblica è in aperto contrasto con il Presidente del Consiglio. Quindi, per farmi capire da tutti, la trasformazione dello Stato italiano da Stato liberale, poi chiaramente ognuno è libero di pensare quello che vuole. Libertà assoluta per tutti. Ci sarà anche chi, ascoltando questo video, commenterà dicendo ma Orsini, Professor Orsini, noi non siamo in uno Stato liberale. Però io, diciamo, parto dall'assunto che siamo in uno Stato liberale. Quindi la trasformazione dello Stato, con tutti i limiti del caso, perché chiaramente, come voi sapete, una delle mie tesi che ho cercato di documentare portando una messe di prove è che il sistema dell'informazione in Italia sulla politica internazionale sia completamente corrotto. Quindi, sì, siamo in uno Stato liberale, però diciamo che potremmo fare meglio. Ma detto questo, perché chiaramente la libera informazione è fondamentale in una democrazia liberale. Però, per fare un ragionamento, altrimenti non riusciamo a parlare di nulla, io parto dall'assunto che l'Italia sia uno Stato liberale, con dei difetti, con delle correzioni da fare. Dobbiamo molto lavorare per ampliare i nostri spazi di libertà, dobbiamo fare molto per migliorare l'informazione, soprattutto sulla politica internazionale, che è corrottissima. Ma siamo in uno Stato liberale. L'Italia non può trasformarsi in uno Stato liberale se il Presidente della Repubblica non è d'accordo con il Presidente del Consiglio. Ammetti, io sto facendo un esperimento mentale, è semplicemente un esercizio mentale per poter crescere insieme, per poter ragionare, per poter esercitare il ragionamento critico. Quindi, facciamo questo esperimento mentale. Immaginiamo che il governo Meloni voglia trasformare l'Italia in uno Stato autoritario. Non può riuscire in questa impresa se non elimina i contropoteri. Ed è chiaro che il Presidente della Repubblica, nel momento in cui si oppone a un progetto del genere, di trasformazione dello Stato italiano, Stato liberale, in uno Stato autoritario, diventa un contropotere. Quindi bisognerebbe fare fuori il Presidente della Repubblica. O comunque, bisognerebbe, e il governo Meloni dovrebbe elaborare delle strategie per minacciare il Presidente della Repubblica o per porlo sotto ricatto. Cosa che, allo stato attuale delle nostre conoscenze, non esiste. Anzi, addirittura, il Presidente della Repubblica ha preso il sopravvento sul governo Meloni, di fatto censurando la polizia. Un altro elemento che dovrebbe essere presente per poter parlare della trasformazione di uno Stato liberale in uno Stato autoritario è la diffusione della repressione. Cioè, non basta che la polizia abbia commesso degli errori, abbia sbagliato, abbia compiuto degli eccessi a Pisa. È necessario che questi eccessi vengano compiuti ripetutamente. Quindi bisognerebbe prendere il numero delle manifestazioni che si sono svolte finora, manifestazioni pro-Palestina. Ovviamente, io voglio essere chiaro su un punto. È chiaro che in Italia esiste un clima di intimidazione psicologica nei confronti degli studiosi pro-Palestina, un clima di pesante intimidazione psicologica nei confronti dei cantanti pro-Palestina, nei confronti degli studenti pro-Palestina, nei confronti di tutti coloro che denunciano i crimini disumani di Israele nei confronti del popolo palestinese. Quindi non voglio negare questo perché è l'evidenza empirica che suggerisce che le cose stanno così. Quindi questo clima di intimidazione esiste. ma parlare della trasformazione dell'Italia in uno stato autoritario da un punto di vista sociologico è qualcosa di molto più complesso. Bisognerebbe avere una moltiplicazione di fatti repressivi distribuiti largamente su tutto il territorio nazionale e in tutte le manifestazioni o nella gran parte. Quindi bisognerebbe fare una stima. Quante manifestazioni pro-Palestina ci sono state finora? Quante volte si sono verificati fatti come quelli di Pisa o come quelli di Firenze? Su Firenze io mi scuso mi pronuncio meno perché ho indagato di meno quello che è accaduto. Mi sono concentrato soprattutto sui fatti di Pisa ho raccolto informazioni soprattutto sui fatti di Pisa perché mi sembra di capire che siano stati quelli più gravi dove la violenza è stata più virulenta. E come dire mi scuso di questa mia mancanza ma ho investigato soprattutto Pisa anche perché in questo momento sono presissimo dalla scrittura del mio nuovo libro che uscirà in Italia il mio prossimo libro in italiano lo sto ormai terminando lo scrivo da due anni sarà un libro sull'Ucraina e sulla Palestina quindi anche su Gaza. Quindi per rispondere alla domanda la sociologia offre gli strumenti per rispondere alla domanda il governo Meloni sta trasformando lo Stato liberale in uno Stato autoritario? Ognuno poi maturerà i propri convincimenti io mi limito a dire soltanto in un video breve dovrei dire tantissime altre cose sulla trasformazione di uno Stato liberale in uno Stato autoritario però due elementi o comunque l'elemento forse il più importante di tutti io credo che manchi perché non ci può essere un disallineamento tra il Presidente della Repubblica e Giorgia Meloni ammesso è un esperimento mentale che Giorgia Meloni voglia trasformare l'Italia in uno Stato autoritario è un puro esercizio mentale non ci può essere dal punto di vista sociologico non ci può essere una rottura così forte tra il Presidente della Repubblica e il Ministro degli Interni Ministro degli Interni anche qui disallineamento che sostanzialmente si è piegato alle parole del Presidente della Repubblica io magari mi sono perso qualche dichiarazione di piante e dosi ma le prime di piante e dosi e in tal caso mi scuso con tutti ma le prime di piante e dosi sono state dichiarazioni di uno che sostanzialmente si è inginocchiato ha posto la sua faccia sotto i piedi del Presidente della Repubblica così anche un po' per sdrammatizzare un po' per scherzare anche perché come sapete io sono un grandissimo ammiratore a direi quasi un seguace dal punto di vista pedagogico di Massimo Troisi e quindi faccio riferimento a quella lettera divertentissima scritta credo si ricordo bene da Benigni e da Troisi a Savonarola in Non ci resta che piangere però mi scuso se sbaglio nei miei ricordi perché vado a memoria ma sostanzialmente quello che piante e dosi ha fatto è si è steso per terra si è fondamentalmente umiliato ha messo i piedi sotto ha messo la testa sotto i piedi del Presidente della Repubblica ha detto sì 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 il Presidente della Repubblica ha ragione sono perfettamente d'accordo con le sue parole quindi questi sono tutti elementi che inducono a ritenere che non ci sia che non sia in corso un allineamento tra i poteri dello Stato per reprimere i manifestanti per reprimere il libero pensiero fermo restando che c'è in Italia un clima di intimidazione nei confronti degli studiosi che denunciano i crimini di Israele e quant'altro adesso spero di avere non dico esaurito ma quantomeno toccato le questioni fondamentali vengo alla questione delle parole di Macron e per far prima perché il tempo stringe vado subito alla lettura dell'articolo come sempre però magari farò delle brevi pause per integrare per commentare per approfondire l'articolo si intitola Macron vuole mandare soldati Nato in Ucraina e Macron ha dichiarato di essere disposto a inviare soldati francesi a combattere contro i russi in Ucraina Putin ha replicato che se i governi Nato arrivassero a tanto la Russia sparirebbe su di loro sostanzialmente questo è il senso delle parole di Putin la reazione dei principali membri della Nato è stata imbarazzante tutti loro Biden in testa hanno dichiarato che gli ucraini dovranno combattere da soli la prima informazione che Putin ha ricavato dalla reazione della Nato alle parole di Macron è che l'offensiva russa non teme rischi particolari se anche i russi arrivassero a Odessa non dovrebbero preoccuparsi di un intervento della Nato l'eventuale conquista dei russi di Odessa sarebbe una catastrofe geopolitica senza fine per l'Ucraina se si compisse allora potremmo davvero parlare della morte di una nazione per devastazione senza più sbocchi al mare persino la geografia dell'Ucraina cambierebbe definitivamente la seconda informazione che Putin ha ricavato dalla reazione della Nato alle parole di Macron è che la strategia incrementale della Russia sta funzionando nel senso che sta dando i frutti attesi da Putin all'inizio della guerra e devo dire ancora oggi Putin è stato rappresentato come uno stupido che ha agito senza riflettere sulle conseguenze prevedibili delle proprie mosse in realtà Putin ha ragionato sulla guerra in Ucraina con molta più attenzione rispetto ai capi dell'Unione Europea non mi diffondo su questo tema perché è oggetto del libro che sto scrivendo da due anni per Paper First e che uscirà in Italia nei prossimi mesi mio ultimo libro in italiano è uscito nel 2022 ed è Ucraina critica della politica internazionale in questa sede mi limito a dire che Putin ha utilizzato la strategia incrementale che consiste nell'aggiungere truppe e risorse un po' alla volta per raggiungere tre obiettivi quindi andiamo a vedere quali siano i tre obiettivi principali della strategia incrementale di Putin il primo obiettivo della strategia incrementale è stato quello di non sconvolgere la società civile russa una grande mobilitazione di improvviso avrebbe sconvolto e come la vita quotidiana dei russi privando Putin dei consensi per essere rieletto Putin è entrato in Ucraina con 180.000 soldati adesso dopo due anni ne ha 617.000 su quel territorio strategia incrementale il secondo obiettivo della strategia incrementale è stato quello di avanzare lentamente giacché un assalto totale avrebbe gettato i governi occidentali nel panico rafforzando i falchi che chiedono di entrare in guerra con la Russia molti non hanno capito che Putin avanza lentamente ma inesorabilmente per una precisa scelta strategica sembra incredibile eppure Putin all'appoggio dei media italiani pronato i quali per la vergogna del loro fallimento non stanno coprendo il disastro dell'esercito ucraino Putin avanza e come ma in Italia quasi nessuno lo sa perché i media non ne parlano Putin può star tranquillo le ragioni per precipitare nel panico esistono e come ma in Italia nessuno ha la percezione della condizione gravissima in cui versa l'esercito ucraino i media italiani non possono dirlo perché si vergognano di avere detto che l'esercito ucraino avrebbe spazzato via quello russo in un batter d'occhio e perché devono coprire il fallimento della classe dirigente dell'Unione Europea il terzo obiettivo della strategia incrementale è di risparmiare soldati russi aspettando che l'esercito ucraino si dissangui con il passare del tempo una cosa è organizzare un esercito per uccidere un milione di soldati ucraini a mani nude in sei mesi altra cosa è attendere che quel milione di soldati si infiacchisca nel volgere di cinque anni come avevo detto all'inizio della guerra contro la propaganda dei media dominanti il tempo lavora in favore della Russia la terza informazione che Putin ha ricavato dalla reazione della Nato alle parole di Macron è che la Nato non ha voglia di combattere per l'Ucraina io l'ho sempre saputo ed è per questo che ho invocato la diplomazia sin dal primo minuto di guerra la mia tesi era questa se la Nato non vuole morire per l'Ucraina allora non lasci che l'Ucraina muoia ebbene l'Ucraina sta morendo e la Nato sta guardando va bene io vi ringrazio molto vi ricordo che questi video non hanno pubblicità per una mia scelta mi è stato offerto di inserirle e quindi di monetizzare di guadagnare con questo canale ma io ho rifiutato questa proposta è un canale che ho aperto soltanto per restituire un po' dell'affetto che ricevo dalle persone che mi scrivono lettere bellissime che mi incontrano per strada mi stringono la mano io sono molto molto grato di questo affetto di questi gesti di solidarietà e anche ogni iscritto a questo canale per me è un gesto di vicinanza e di affetto che conta molto vi ringrazio molto e a presto